Ciao a tutti. Oggi faremo insieme un trekking geologico virtuale ad alta quota sui altopiani di Monterago in provincia di Macerata. Se dovessi descrivere questo luogo a qualcuno che non lo conosce lo paragonerei ai piani di Castelluccio di Nocce in miniatura. In effetti le due località oltre che per l'aspetto hanno molte particolarità geologiche in comune di cui parlerò più avanti. Lungo il cammino vi racconterò di grotte, di voragini nel terreno, di siti preistorici ed ovviamente anche del lago che oggi non c'è più. Gli altopiani di Monterago si trovano a 900 metri di quota, a circa 8 chilometri ad ovest di Camerino, tra l'alta valle del fiume Chienti e quella del Potenza. Partiamo dunque per questa escursione che oltre agli altopiani toccherà anche alcune vette che li circondano, come quella di Monteprimo e di Montegno. Ed è proprio salendo su quest'ultimo rilievo che iniziamo il nostro percorso. Dalla sua vetta, infatti, che si trova a 1435 metri di quota, possiamo osservare dall'alto i due altopiani in cui è suddivisa la conca. Il piano superiore, posto a quota 920 metri, si estende per circa un chilometro quadrato, il doppio di quello inferiore, che si trova a 890 metri. In lontananza vediamo anche il Monteprimo, che con i suoi 1299 metri di quota spicca sull'orizzonte. Scendiamo dalla vetta del Monte Igno fino al piano superiore. Lungo il sentiero nel bosco, circa metà strada, passiamo davanti alla piccola chiesa della Madonna di Monte Igno, che testimonia che questo sentiero un tempo era molto frequentato. Il versante occidentale del rilievo è costituito quasi interamente da maiolica, una roccia formata da fango carbonatico, ossia da piccolissimi resti di cusci di organismi marini e di alghe di natura calcarea. Scendendo ancora, incontriamo un'altra formazione rocciosa, più antica della precedente, i calcari di asprini umbro-marchigiani. Questo è un campione di calcari di asprini umbro-marchigiani del Monte Igno. Il nome calcari di asprini descrive bene la loro composizione nella quale la presenza della parte calcarea può variare da un massimo del 50% fino a essere completamente assente. L'altra componente è data dalla selce, come possiamo vedere in questo campione. Essa deriva da gusci di organismi marini, si dice, i radiolari. La selce ha durezza 7 nella scala di mossa e se proviamo a incidere il campione con una punta di acciaio non ci riusciamo, perché l'acciaio ha una durezza inferiore di circa 5. Scendendo ancora, dopo aver superato Fonteforno a quota 960 metri circa, possiamo osservare dei megaliti di brecce cementate allineati, purtroppo in condizioni di avanzato stato di degrado. Essi, secondo alcuni studi, hanno un'origine molto remota e la loro funzione, forse legata ad antichi rituali, è tuttora sconosciuta e oggetto di approfondimenti. Siamo finalmente arrivati al piano superiore. Esso è circondato da rilievi calcarei e la sua origine è legata all'attività tettonica di faglie recenti poste ai suoi bordi, che lo hanno ripassato rispetto alle parti rilevate. Ciò ha creato le condizioni per la formazione di un lago, che si è mantenuto fino alla metà del Quattrocento, quando Giulio Cesare da Varano, signore di Camerino, fece defluire le sue acque nel piano inferiore, attraverso un taglio artificiale nella roccia di un rilievo costituito da scaglia bianca. Per favorire il deflusso delle acque, egli fece realizzare anche un sistema di canali disposti a spina di pesce, ancora oggi funzionanti. Questa è la scaglia bianca proveniente dal taglio artificiale dei da Varano. La scaglia bianca è un calcare marnoso appartenente alla successione umbro-marchigiana e differisce dalla sua vastante scaglia rossa per il colore bianco. Entrambe però assumono il nome di scaglia a causa della loro tipica fratturazione in scaglie come queste che vedete. Attraversato il taglio ci troviamo nel piano inferiore, dove possiamo osservare due grandi volagini nel terreno, due inghiottitoi, che fanno letteralmente sprofondare le acque nel sottosuolo. Gli inghiottitoi sono le evidenze geologiche di un processo chimico che si chiama carcismo. Questo processo interessa le docce calcare che vengono disciolte lentamente ad opera delle acque piovane arricchite di un gas, l'anidride carbonica, presente nelle sostanze organiche in decomposizione del suolo. Il piano inferiore in ogni stagione si trasforma, pur mantenendo il suo aspetto selvaggio. In inverno gli inghiottitoi non riescono a smaltire tutte le acque che provengono dal scioglimento delle nevi, che si accumulano al centro di esso in un lago temporaneo, che poi in primavera scompare. In estate, invece, esso si trasforma in una grande prateria, i cui colori contrastano con quelli dei rilievi circostanti coperti di vegetazione. Il carcismo, oltre che in superficie, agisce anche in profondità, generando cavità e grotte. Pensate, a Montelago e nel territorio circostante sono presenti ben 55 grotte, i cui ingressi sono spesso nascosti nella boscaglia, a testimonianza dell'intensa attività carsica attiva nell'area. Attraversiamo ora il piano inferiore e percorriamo la strada bianca che conduce al centro abitato di Agolla. Giunti al primo incrocio, prendiamo la strada a destra, che ci porta fino ai piani posti a quota più elevata, che si trovano ai piedi di Monte I, l'ultima tappa della nostra escursione. Iniziamo la salita per raggiungere la vetta. Arrivati quasi sulla sua sommità, attraversiamo una serie di fossati concentrici, probabilmente un sistema difensivo. Secondo alcuni studiosi, Monte I era uno dei più importanti luoghi di culto dell'Italia centrale all'età del bronzo. Dal Monte I si riesce a vedere un ampio territorio fino al mare Adriatico e ovviamente si dominano gli altopiani di Montelago e il Monte Igno, da dove siamo partiti per questa escursione. Gli altopiani di Montelago sono meno conosciuti dei più famosi piani di Castelluccio, ma entrambe le conche hanno molte cose in comune. Si trovano in quota, sono delimitate da faglie e in esse attiva il carsismo. Queste caratteristiche ed altre che non vi ho raccontato oggi li rendono due ambienti naturali veramente esclusivi e se volete potete venirci a trovare al museo per scoprire tante altre curiosità su di essi. Bene, è giunto il momento di salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima escursione geologica. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!